A San Pietroburgo, il programma di lunedì. Come detto nei giorni scorsi, la settimana AAP si divide tra Francia e Russia. A San Pietroburgo, un 250 ricco di presenze italiane. Il lunedì della racchetta offre sette incontri a livello di singolare, match di qualificazione si fondono con partite di primo turno. Si gioca sul centrale e sul campo n.1. Ernest Sgulbis, fermato al 2T allus Open da Kevin Anderson, poi finalista, bussa alla porta del tabellone principale. Per completare la sua rincorsa al mind drive deve regolare Nedelco. A seguire, Batutin, Masur. Circoletto rosso per il confronto tra Bagdatis e Zeballos. Nel pomeriggio, l'estroso Cipriota, tennista di talento, affronta il regolarista argentino. Un unico precedente, a Washington nel 2010, WT e Break Bagdatis. Rifinisce il programma col Schreiber, quinta testa di serie, atteso al primo turno dalla Vidkar Tjurnev. Sul campo n.1, invece, due sfide di qualificazione. John Patrick Smith trova la Vidkar Tjurnev, Radualbot duella con gli Ambro Adi. In chiusura di giornata, Vessillo tricolore. Paolo Lorenzi, tenace afflushing meddovs, scrutadzumur. Non un avvio semplice per il veterano di casa Italia. Il bosniaco, 3T a New York, è reduce dalla finale di Winston-Salem, KO con Bautista, dalla finale di Santo Domingo, Challenger su terra, e dalla semifinale di Los Cabos, Stop Conquerren. Centrecourt starts at 11.00am. QF, 4, Ernest Sgulbis vs Ivan Nedelco. QF, 3, Alexei Vattutin vs Daniel Mazur. Not before 3.00pm. . 1STR di Marcos Bagdatis vs Horacio Zeballos. Not before 5.00pm. 1STR di, WC, Evgeniti Urne vs. 5, Filip Kolchreiber. Courts 1 start sat 11.00am. . . QF, 2, John Patrick Smith vs, WC, Michael Elgin. Not before 12 2.009. QF, 1, Radualbot vs, 6, Liam Broady. Not before 3 2.00pm. . 1 Strd, 6, Paolo Lorenzi vs Damir Zumur.